So they could see me, did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dream Vi voglio presentare una serie di borse innovative, realizzate tutte in eva, nome delle borse Ultra Dry Perché Ultra Dry? Perché vi protegge il vostro materiale da pesca, qualsiasi esso sia, da sporco, da acqua, eventualmente da pioggia Una serie di borse complete, le vedete, da una cooler bag che possiamo contenere le nostre esche al riparo dal caldo Perché vedete il bianco che non attira la luce e al suo interno una parte laminata dove possiamo mettere i nostri pannelli di ghiaccio con le nostre esche E poi tutta una serie di borse più piccole, più grandi, fino ad arrivare a una serie rigida Questa serie rigida qui, sempre realizzata in due misure, ci permette di contenere anche dei materiali pesanti come nella mia pesca, il feeder e non sfondarsi Questo qui è un sistema di borse molto molto interessante, lo possiamo utilizzare per la competizione, lo possiamo utilizzare per la pesca normale Riusciamo a compattare qualsiasi materiale in pochissimo spazio Guardate questa borsa qua, questa viene già fornita con addirittura quattro borsettine all'interno Per cui possiamo mettere qualsiasi cosa noi vogliamo in un minimo spazio Utilizzarle anche nel momento in cui stiamo pescando, magari ci vogliamo mettere dentro la pastura bagnata E non vogliamo prenderci acqua o pioggia, richiudiamo il coperchio Pochissimo spazio, richiudiamo il tutto Chiudiamo con delle cerniere molto salde Le andiamo a trasportare con una maniglia molto comoda E poi una bella tracolla con un piccolo spallaccio Ci consente di fare diversi chilometri senza alcuna difficoltà Guardate per esempio questo sistema qua Come Silvan tiro fuori due, quattro E in un attimo ho preparato un mio piatto con cinque vasche da mettersi dentro, pasture, esche, qualsiasi materiale Abbiamo finito la nostra sessione di pesca Ce ne vogliamo andare Vogliamo contenere durante il trasporto i nostri prodotti Apriamo una piccola borsa Riponiamo il nostro bite all'interno Richiudiamo Inseriamo le nostre maniglie E la nostra tracolla ci aiuterà a camminare senza problemi Anche per diversi chilometri senza alcuna difficoltà Perché è regolabile per qualsiasi persona Alta o bassa che possa essere E noi possiamo fare quello che vogliamo con queste semplici borse Ultra dry E guardate queste piccole borsettine qui Che noi le possiamo utilizzare anche all'interno di queste borse qua Che ho appena composto Guardate qui possiamo metterci due di queste borsette qua O addirittura non ci servono queste borse Ma ce ne serve una vasca o una un po' più grande Possiamo mettere queste Molto facile da comporre Molto facile da utilizzare Ultra dry Novità Casa Trabucco 2022 Grazie a tutti